Due attività fondamentalmente, la prima è quella di sopralluogo e quindi di repertamento e constatazione della scena dell'evento e registrazione di tutti i particolari che poi rivisti successivamente potranno avvalorare o smentire le ipotesi investigative e le dichiarazioni dei presenti. La seconda parte invece è l'attività di scandaglio di tutta la rete di relazioni nel cui ambito si poneva questa famiglia per cercare di comprendere le motivazioni di questo dramma e se dalle relazioni, dai rapporti che avevano i due coniugi e le bambine con i parenti, familiari, amici, conoscenti, si possa arrivare a individuare un possibile movente o individuare eventualmente i semi della tragedia che poi si è verificata. Ancora da individuare il movente che ha portato la donna ad uccidere le due piccoline. Questo per il momento è, oltre che coperto dal segreto istruttorio, è un'attività che va riscontrata. Nel senso che noi abbiamo raccolto quello che ci hanno raccontato tantissime persone. Occorrerà incrociare queste dichiarazioni soprattutto alla luce di quello che ci dirà sia l'autrice del delitto, sia i suoi più vicini familiari, la mamma, il marito, le insegnanti, i compagni di scuola. Il comandante del reparto territoriale dei Carabinieri di Gela, il maggiore Antonio De Rosa. Stiamo approfondendo, sentendo le persone e riscontrando quello che è stato trovato sulla scena del crimine per definire tutti i contorni. Sicuramente c'è un profilo psicologico che va approfondito per quanto riguarda la signora. Dopodiché non abbiamo al momento elementi concreti per dire è maturato per un motivo e per l'altro. Su questo ci saranno degli esperti, eventualmente dei consulenti che si potranno esprimere meglio di noi. A posteriore è facile dire qualsiasi cosa che avesse detto alla signora che poteva essere interpretata in un senso o nell'altro. Quindi è troppo puerile dire c'erano dei segni. Noi non abbiamo riscontrato elementi concreti per poter dire che avrebbe potuto compiere un gesto del genere. Quindi le altre cose sono ill'azione, noi ci basiamo sui dati di fatto.